Credo che in questo momento la squadra, intesa come società, quindi presidente, allenatore, giocatori e staff, ha bisogno di serenità, coesione e compattezza. Fare squadra, come sta facendo Napoli in questo momento anche tramite difficoltà, è una città che va forte perché c'è uno spirito di squadra e non è ammissibile che per troppo tempo ci siano queste divisioni. Quindi io faccio anche io da tifoso e da sindaco un accorato appello, non spetta a me stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Faccio un appello alla coesione, alla compattezza, alla forza, a non mollare mai perché quando uno lotta entusiasmo, appassione, amore per la maglia che indossa e per la città in cui gioca nessun traguardo è irraggiungibile. Però bisogna lottare, bisogna crederci, vediamo una squadra troppo sfilacciata, non è il Napoli a cui eravamo abituati. Quindi bisogna affrontare i nudi, i problemi, abbiamo bisogno di una squadra forte per una città che sta andando molto forte.